Ieri a Roma, in occasione dell'anniversario della rivoluzione d'ottobre in Russia, il segretario del partito comunista Marco Rizzo ha organizzato un'assemblea con l'omologo greco Dimitris Kosampas. Con questa crisi strutturale, i margini per il riformismo, non ci sono, ha detto Rizzo, che guarda con freddezza alla neonata sinistra italiana e a movimenti come Podemos in Spagna o Siriza in Grecia. Per cambiare la società, ha proseguito Rizzo, servono comunisti veri, non comunisti con il Kashmir.